Giovedì 24 settembre, dalle 9 alle 13, presso la sede Un'Industria via San Domenico 4 a Bologna, l'AIOB, Associazione Italiana Ospedalità Privata, vi invita al convegno sul bilancio sociale aggregato 2014 con la presentazione del quarto studio sull'impatto economico e sociale della sanità privata nella provincia di Bologna e ha un contributo al confronto per il benessere di tutti i bolognesi. Vi aspettiamo!